Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Non prendetemi per pazza, non sono in Alaska, però noi qui in Puglia abbiamo sforato i 40 gradi, non si respira e quindi c'è il condizionatore acceso e io per non prendermi un malanno ovviamente ho messo il, mi sono coperta un po' di più, ecco diciamo così. Oggi su richiesta, su vostra richiesta mi sono arrivati messaggi in direct su Instagram da tantissimi di voi riguardanti una cosa, un fatto inquietante che a quanto pare sarebbe inquietante però diciamo che un pochettino l'ho inquadrato quindi voglio dire un po' quello che penso io. Oggi andremo a parlare di Momo, il mistero che sta spopolando possiamo dire su tutti i social. Quando mi vedevo arrivare questi messaggi, Sara parlerai di Momo, parlerai di Momo, io dico ma chi è sta Momo, ma cos'è sto Momo? E poi al decimo messaggio ho detto vabbè va, mi vado ad informare. Mi sono andata ad informare e adesso vi racconterò brevemente di cosa si tratta anche se la maggior parte di voi lo saprà sicuramente. Recentemente si è diffusa un'immagine, un'immagine che raffigura questa donna deformata con questo ghigno, sorriso, parecchio inquietante, questi occhi di fuori. Almeno a detta di molti questa sarebbe un'immagine inquietante, a me fa ridere perché io di inquietante non ci vedo niente, anzi mi fa anche tenerezza. Tutto ha avuto origine su Facebook quando è stata pubblicata questa foto accompagnata da questo numero di telefono. L'account sarebbe giapponese e la foto, questa foto che gira ormai su internet dappertutto, ho visto perché io non sono una ragazza che sta sempre su YouTube, anzi non sto quasi mai, io una YouTuber seguo una ragazza che parla di paranormale, basta, non seguo più nessuno, quindi io di queste cose proprio non ne sapevo niente. Poi cercando ho visto che tutti ci hanno fatto il video riguardante questa Momo e la foto in realtà non sarebbe di una persona reale, ma quella foto lì raffigurerebbe una statua che esiste realmente. Comunque tutto questo è iniziato su Facebook con l'apparizione di questa foto, a detta di alcuni agghiacciante, accompagnata da questo numero. Ci sono varie leggende perché ovviamente nel momento in cui, come è stato anche per quanto riguarda Bloody Mary, non si conosce la storia vera, non si sa chi c'è dietro perché secondo me c'è qualche sadico dietro e quindi non sapendo si mettono su tantissime storie, ognuno esprime la propria opinione e dalla propria opinione comincia a costruire castelli e montagne di carta, perché montagne di carta alla fine non possiamo basarci sul nulla e soprattutto non possiamo spacciare per vera una semplice leggenda e tra l'altro vi dico che in questo caso di leggende, cioè non si parla soltanto di una leggenda in particolare, ma di tante versioni. Comunque la versione più accreditata che ho sentito dalla maggior parte delle persone qui su YouTube ci dice che questa Momo potrebbe essere contattata, la possiamo contattare, ad una determinata ora della notte e che ci può anche rispondere e risponderebbe soprattutto intorno alle 3 di notte. Quindi ancora una volta abbiamo il numero 3 che sappiamo benissimo per quanto riguarda il simbolismo religioso non indica di certo un numero positivo, quindi anche questo rigettare tutto quanto alle 3, alle 3, alle 3 di notte. Comunque questo qui, questa Momo vi risponderebbe, la potete contattare infatti chiunque può scrivere, io ve lo sconsiglio però, chiunque può scrivere a questa Momo e lei vi potrebbe rispondere appunto di notte intorno alle 3. Ci sono però delle regole che vanno rispettate. Innanzitutto nel momento in cui decidete di aprire una conversazione con questa Momo non potete abbandonarla, non potete abbandonarla per nessun motivo al mondo, dovete prima ricevere il permesso da questa Momo di abbandonare la conversazione e nel momento in cui ricevete il permesso da Momo potete farlo. E qui mi ricollegherei un pochino alla tavoletta Ouija, anche lì nel momento in cui cominci a giocare non puoi staccare le dita dalla planchette perché devi attendere il permesso e che ti venga dato il permesso dallo spirito che tu hai interpellato. E poi nel momento in cui ti viene dato il permesso dallo spirito, muovi la planchette verso la scritta goodbye e quindi lì puoi interrompere la seduta. Quindi anche qui questo rigettare su cose già sentite e risentite. Comunque non potete abbandonare la conversazione se decidete di scrivere a questa Momo. E inoltre regola molto importante non dovete permettere a Momo di inviarvi due messaggi di fila, due messaggi consecutivi. Su internet ma anche se vi fate un giro su YouTube ci sono tantissime persone che hanno già provato a fare questo, a contattare questa Momo e dicono che è un'esperienza davvero molto molto inquietante. Sono arrivate a noi anche le testimonianze di coloro che hanno tentato questo esperimento, chiamiamolo così. E si dice che chi riesce effettivamente a superare questo esperimento, perché chi ci ha giocato, tra virgolette, chi ha contattato questa Momo, ha detto anche che lei è capace di tenerti incollata allo schermo anche fino all'alba e quindi di non lasciarti andare via. E dicono che se riesci a superare questa sfida, viene addirittura ricompensato da questa Momo, ma questa ricompensa è sconosciuta e ignota perché nessuno sa di cosa si tratta. Però a quanto pare ci sono queste persone che dicono di aver ricevuto una ricompensa da parte di Momo ma non possono dire nulla al riguardo. Chi invece non supera la sfida, chi non rispetta le regole, si dice addirittura che sia andato incontro ad una sorte sconosciuta, ad una sorte inquietante. Infatti si parla di gente scomparsa nel nulla per non aver rispettato le regole di questa Momo. Come vi dicevo poc'anzi, esistono tantissime versioni di questa leggenda, però il tutto è cominciato in Spagna. Un ragazzo spagnolo infatti dice di essere stato contattato un giorno da questa Momo, quindi da questo numero di telefono, account giapponese con questa foto. Tra l'altro è strano pensare che adesso un numero giapponese, un account giapponese si mette a contattare un ragazzo spagnolo. Avevano cominciato a chiacchierare e in un determinato momento Momo ha cominciato a confessare a questo ragazzo particolari della sua famiglia, riguardanti la sua famiglia. Diceva cose che apparentemente poteva conoscere soltanto un amico di questo ragazzo, però qui non c'è neppure da stupirsi. Questo è un consiglio espassionato che io vi do. Nel momento in cui vi iscrivete ad un social network, come per esempio Facebook, ne hanno parlato veramente in tutte le salse, in tutte le lingue, ovunque e io sono d'accordo nel consigliarvi questo. Non date tante informazioni riguardanti voi, la vostra persona, la vostra famiglia, le vostre relazioni sociali, perché dovete ricordarvi che quello che voi vedete tramite lo schermo non è la realtà, non è la realtà. È una realtà sì, ma virtuale e anche molto molto pericolosa. Se voi cominciate a dare tantissime informazioni sui social, poi non vi stupite se una persona come in questo caso vi contatta e sa già chi siete, vi conosce, soprattutto persone che sono esperte nel lacheraggio e roba simile. Quindi date sempre informazioni, il minimo indispensabile, magari il nome, neppure il cognome in qualche caso. Però cercate di non essere molto espansivi per quanto riguarda la vostra vita virtuale, perché poi non mi stupisco quando succedono queste cose. Voi credete che tutto quello che incastonate in questi profili social sia soltanto vostro e dei vostri amici? Non è così internet, è una realtà molto molto pericolosa che vi potrebbe, sì potrebbe anzi, ritorcere contro. Quindi veramente prestate tanta attenzione e non vi lasciate informazioni molto molto personali. Quindi questa momo aveva contattato il ragazzo spagnolo dicendo a lui particolari riguardanti la sua famiglia, che probabilmente lui aveva sperperato anche su qualche social, questo non lo so. C'è un particolare molto inquietante riguardante questa storia però, perché nel momento in cui avevano cominciato a chiacchierare, ad un certo punto diciamo che gli animi si erano scaldati e la conversazione aveva preso una piega molto molto inquietante. Quindi questa momo, o questo momo, non so chi c'è dietro, un maschio, una donna, non lo so, spazientito cosa fa? Invia al ragazzo spagnolo la foto di una bambina mutilata, assassinata, accompagnata da una frase del genere. Buonanotte, auguro a nome di una persona che adesso vi dico chi è, di fare dolci sogni. Il nome della persona che questo aveva inserito nella frase era il nome della sorellina piccola di questo ragazzino spagnolo. Quindi, come facevano a sapere il nome di questa, della sorellina di lui? Perché probabilmente lui aveva scritto, aveva taggato la sorellina su Facebook, insomma può essere, può essere, possono essere tante le opzioni, le ipotesi. Ma la cosa che si chiedono in molti è, da dove ha preso la foto di quella ragazzina brutalmente assassinata? Alcuni sostengono che la foto provenga direttamente dal deep web, altri invece dicono che la foto è reale e che quindi questa ragazzina sia stata assassinata proprio da Momo stessa. Sono state tante le persone che hanno ricercato questa foto su internet, su Google, ma di questa foto non c'è la minima traccia. Quindi la foto è di origine sconosciuta ed è questo quello che si chiedono in tanti. Io chiedo adesso a voi, cosa pensate di questo mistero che sta ormai spopolando, ha ormai spopolato ovunque? E soprattutto vi dico ancora una volta, siate davvero prudenti e non rilasciate informazioni strettamente personali o riguardanti la vostra famiglia su internet. Secondo me dietro tutto questo c'è un sadico, c'è una mente malata che potrebbe realmente rivelarsi pericolosa e fare, non so, qualcosa di indicibile. Quindi se voi volete provare, io il numero ve l'ho scritto, a me non interessa, cioè alla fine non è che sono io responsabile per voi. Siete adulti, vaccinati, quindi vedete voi quello che dovete fare, però io starei attenta perché al giorno d'oggi, nel 2018, ci sono tantissime persone malate che purtroppo non sanno che farsene della propria vita e sprecano il loro tempo ad architettare queste cose davvero inquietanti, apparentemente inquietanti ma anche stolte perché si tratta davvero di cose che a me non inquietano proprio. Fatemi sapere tutto quello che avete da dire, fatemi sapere i vostri pareri, le vostre opinioni, io vi auguro un buon proseguimento e ci vediamo alla prossima!